Eccoci qua ragazzi, allora, Chemical Part 3, continuiamo Skyer, missione velocissima, semplicissima. Allora, dovete recuperare una siringa di antidoto, anzi in realtà di reagente, ma vabbè, fa più figo antidoto. Allora, dove sta in factory, ultimo piano, la porta, quella che per aprire dovete fare bridge, allora c'è la prima stanza dove c'è la cassaforte, che ci sono due entrate, qua c'è una stanza che non serve nulla per aprire, dovete solo sfondarla, e la terza stanza che serve la chiave, sfondate la porta, sulla destra ci sono degli armadietti, dentro l'armadietto c'è questa siringa, prendete, uscite da factory e il gioco è finito. Missione veramente veloce, se non fosse che tocca fanno proprio sugli uffici, che è la zona più stronza di factory. Andiamo a vedere. Ultimo piano. Attenzione qua, eh. Attenti anche da destra, da questo buco. Allora, non questa, neanche questa. Eccola qua. L'armadietto, eccolo. E qui la nostra siringa, è il gioco che è fatto. Ciao ciao. L'armadietto, eccolo. L'amadietto, l'amadietto. non so te pieta i e non 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 Grazie a tutti.